Peris Seaton rischia fino a 4 anni di carcere, questa la pena massima prevista per il reato di possesso di droga nel Nevada, la pena per cui il procuratore della Contea di Clark l'ha incriminata. L'ereditiere era stata fermata venerdì scorso a Las Vegas con 8 grammi di cocaina. La 29enne regina del gossip degli Stati Uniti dovrà presentarsi in aula il prossimo 27 ottobre. Peris Seaton ha legato che la borsetta in cui la polvere bianca è stata trovata fosse sua. Secondo il rapporto, la 29enne ereditiera della catena di alberghi Hilton avrebbe ammesso di possedere lucida labbra e un medicinale per l'asma trovati nella borsetta, ma non la cocaina e la borsa stessa. Grazie a tutti.